E' polemica accesa a Teramo in merito all'aumento della Tari con l'opposizione che non manca di far sentire la propria voce contro la giunta guidata dal sindaco Gian Guido D'Alberto. Le bollette della tassa sui rifiuti arrivate nelle case dei cittadini in queste settimane hanno subito un aumento fino al 10%, incremento già inserito nel piano economico-finanziario di Team approvato la scorsa estate. Tale rialzo è legato ad adeguamenti istati ma i rincari non sono andati giù la minoranza consigliare che ha colto l'occasione dell'ultimo consiglio comunale per attaccare la maggioranza. Sì l'avevamo denunciata già da tempo, già dal bilancio dove abbiamo visto che i costi sarebbero aumentati. Adesso abbiamo avuto la conferma con le bollette che sono arrivate e la gente è veramente disperata perché questo aumento, che loro dicono sia dell'8% ma in realtà è molto superiore, ha impattato negativamente sia sulle utenze domestiche che soprattutto su quelle commerciali. Allora il commercio a Teramo sappiamo è in difficoltà profonda, langue, i negozi hanno chiuso, stanno chiudendo, negozi storici, negozi che chiuderanno a fine anno l'hanno già annunciato. Quindi fare questa scelta accelerata di aumentare la tari per le utenze, soprattutto per le utenze commerciali, è veramente devastante. E non si capisce la logica perché chiaramente se tu aumenti le tariffe vai a desertificare ancora di più il centro cittadino che è già a difficoltà. Quindi le scuole non ci sono, gli negozi non ci sono, questa città sta diventando veramente un cimitero. L'opposizione ritiene l'aumento della tari una scelta inopportuna, soprattutto in un contesto di crisi economica che colpisce le famiglie, le piccole e medie imprese del territorio, molte delle quali già costrette a fronteggiare costi in crescita. Questa scelta di aumentare la tari che hanno giustificato con il fatto di doversi attenere alle regole dell'autorità, della RERA, ma in realtà non è così perché altri comuni non l'hanno aumentata, i costi sono rimasti cristallizzati, quindi se questo vale per altri comuni poteva valere anche per Teramo. L'amministrazione d'Alberto ha fatto la scelta di mettere di nuovo le mani nelle tasche dei cittadini invece di perseguire politiche di vicinanza alla gente in questo momento di difficoltà economica.